ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale per il nuovo video giornaliero oggi parliamo di low cost siamo giunti agli inizi di giugno e come tutti i mesi all'inizio del mese si fanno i conti in tasca e si va a suggerire a tutte e voi qualcosa di low cost sapete che questo video ormai è diventato un appuntamento fisso insomma perché spendere di più se possiamo scovare anche dei prodotti che sono buoni si comportano bene sono efficaci sono gradevoli insomma anche con un prezzo contenuto sapete che ogni mese diciamo che cerco tra le cose che ho o tra le cose che utilizzo di testare delle cose low cost in modo da potervi suggerire qualcosa diciamo che questo mese ho più prodotti beauty che prodotti make up però un po e un po un po e un po dai sono 5 come mio solito e due sono di make up e tre sono di beauty iniziamo col make up questo prodotto me l'avete già sentito nominare avete visto o se non l'avete visto ma lo lascio qua un video dedicato si tratta di questa palette che è la magic professional cosmetics è una palettina che io ho comperato su aliexpress e l'ho comperata perché avevo visto tante recensioni positive che ne parlavano e ne dicevano meraviglie è una palette molto pigmentata con dei colori veramente molto belli un range veramente super super stupendo scusate tonalità appunto molto di moda gli aranciati borgogna ma anche vari opachi un inaspettato verde bosco molto profondo dei dorati dei panna insomma delle tonalità da piega molto molto bella le tonalità soprattutto come queste qua metallizzate sono estremamente vedete bagnate super pigmentate veramente spettacolari guardate questo questo qua guardate cos'è cioè sono dei colori stupendi che hanno veramente una resa magnifica ve ne faccio vedere ancora un altro eccolo ho preso questo eccoli qua cioè i colori sono meravigliosi la resa è veramente molto buona l'ho utilizzato per fare vari make up in questo mese mi è piaciuto moltissimo non mi ha dato nessun problema di allergia di fastidi agli occhi niente di niente l'ho pagata circa 7 euro su aliexpress mi è arrivata in tempo record cioè tipo 6-7 giorni ce l'avevo a casa cosa mai successa perché su aliexpress ci vogliono sempre mesi tipo un mese anche due a volte a me è arrivata subito e se il venditore da cui l'ho presa io ce l'ha ancora anzi no scusatemi il venditore che quando l'avevo fatto il video l'altra volta era stato un furbone perché evidentemente aveva visto arrivare tanti click e aveva raddoppiato il prezzo infatti una ragazza in serata avevo pubblicato il video l'indomani mattina mi ha scritto mi ha detto guarda silvia che il link che hai dato non ha 7 euro ma è a 14 non so quanto e io avevo però cercato subito un altro link e praticamente avevo trovato un altro venditore che ce l'aveva anche a meno prezzo e l'avevo aggiunto in risposta alla ragazza nei commenti quindi se andate a vedere il video e vi leggete i commenti trovate non sono tantissimi vi trovate subito il mio commento dove lasciavo il link del venditore che la vendeva ad un prezzo migliore quindi vi lascio il video e da lì risalite a tutto poi secondo prodotto parliamo sempre di make up si tratta di una matita si tratta di una matita per sopracciglia ed è quella che sto utilizzando mi piace particolarmente perché come potete vedere ha un colore molto simile ai miei capelli diciamo alle punte che sono molto più chiare delle radici è il colore 20 brown della linea di essence super last 24 ore e diciamo il sottotitolo che ha questa matita che è eyebrow pomade pencil waterproof è particolarmente giusto azzeccato mi trova d'accordissimo perché infatti è un prodotto che più che essere una matita è proprio una pomade quindi un prodotto in pasta ma in forma di matita ma la texture la modalità di applicazione cioè quando voi lo applicate lo sentite proprio che una pomade e mi è piaciuto moltissimo secondo me vale più di quello che costa è un prodotto ottimo dura tutto il giorno io ci ho fatto cardio quindi ho sudato ed era lì ferma precisa non si è mossa ha una durata eccezionale peraltro ha dalla parte opposta una vedete un pennellino in setoline voi non lo vedete ma queste sono setole non è un gommino che vi permette proprio di sfumare molto bene peraltro da anche corpo alle sopracciglia quindi se avete delle sopracciglia rade che hanno pochi peletti con questa riuscite a dare un po' di corpo al pelo alla struttura delle vostre sopracciglia perché è un po' da un po' di spessore mi piace tantissimo credo ci siano anche altre tonalità più scure magari anche più chiare questa è la 020 anzi 20 che si chiama brown ottimo ottimo prodotto sapete i prezzi di essence questo non lo so esattamente ma 2 euro 3 euro al massimo anzi credo che a 3 euro non arrivi potrebbe anche essere nel range di prodotti al di sotto dei 2 euro matita a 1,89 ne fa essence non lo so però si parla veramente di prezzi contenuti tra i prodotti low cost che vi voglio segnalare c'è un profumo e profumi low cost sapete che è un po' difficile trovare che siano buoni se ne trovano molti di quelli equivalenti ma io ho testato questo prodotto e secondo me questo è uno dei migliori sto parlando di suddenly si chiama così ma non lo vedete ma c'è scritto suddenly scritto suddenly madame glamour c'è scritto e l'ho trovata alla lidl questo prodotto è mamma che bontà è bontà me lo mangerei no è un prodotto è un profumo ispirato al ben più famoso ovviamente coco mademoiselle di chanel anzi adesso me lo metto e mi sono andata a vedere la piramide del coco mademoiselle ovviamente ed è un orientale floreale ma l'ho spruzzata in bocca un orientale floreale si apre praticamente con un accordo molto giusto per la stagione perché è un accordo esperidato sia bergamotto pompelmo e arancia quindi diciamo fiori d'arancio anzi forse quindi diciamo che è un accordo senz'altro molto fresco quindi un prodotto che c'è un profumo scusate che potete ben utilizzare anche in questo periodo perché è adeguato alla stagione non è troppo pesante soprattutto in apertura mi sono segnata anche le note di cuore che sono floreali abbiamo proprio un abbinata di due fiori particolarmente femminili particolarmente classici che sono gelsomino e rosa insieme però allici e poi una chiusura che invece è più calda più dolce perché c'è la vaniglia ma anche di carattere calda persistente perché c'è il vetivè muschio e paciuli insieme alla vaniglia quindi diciamo un profumo che ovviamente può piacere oppure no come succede sempre con le fragranze ognuno di noi diciamo che ha quel suo range di profumi che adora e quelli che non sopporta se dalla descrizione vi sembra che vi possa piacere ci dovete investire pochi euro 3 euro e rotti e avrete il vostro dupe di cocò continuiamo con i prodotti beauty allora uno dei prodotti beauty che più mi è piaciuto negli ultimi tempi lo uso sempre sono infatti a metà del prodotto è il sephora extra gentle bifaz make up remover for eyes and lips quindi un bifasico per rimuovere il trucco waterproof anche da occhi e labbra è un prodotto che strucca la qualunque io adesso l'ho un po' agitato però praticamente ha come tutti i bifasici una fase oleosa e una fase acquosa strucca stra bene leva qualunque cosa ed è molto 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 delicato c'è sia nel formato più piccolino quindi lo potete portare anche in viaggio mi pare che costi 4 euro quello da 50 ml e poi c'è questo da 125 ml che invece costa 7 euro quindi diciamo che è comunque un prodotto low cost se ne trovano forse anche di meno cari senz'altro però 125 ml 7 euro è un prodotto eccezionale su cui potete fare affidamento delicatissimo delicatissimo sugli occhi proprio non vi darà nessun fastidio contiene olio di semi di cotone quindi lo sentite appunto l'oleosità del prodotto che lo rende anche particolarmente dolce però sugli occhi approvato mi è piaciuto moltissimo poi ultimo prodotto di cui vi voglio parlare è un prodotto per levare lo smalto allora per me essence questo prodotto ve l'ho già nominato ma meritava di avere una sua menzione d'onore nel video dei low cost del mese perché praticamente allora per me essence fa i migliori solventi per unghie per smalto scusate solventi per unghie sarebbe tragica la cosa fa tra i migliori solventi però questo per me ha raggiunto proprio i massimi livelli si chiama strong and clean nail polish remover extra power dice di funzionare anche con i glitter e con gli smalti con effetti vari tipo sugar effect quelle robe lì dovrebbe essere se non sbaglio acetone free vediamo no ce l'ha ce l'ha l'acetone però è top ragazze cioè se volete qualcosa che funzioni veramente fate così e vi toglie tutto e devo dire che non mi ha particolarmente seccato le unghie non è un trattamento di bellezza è come tutti i solventi però veramente ero stufa ne avevo preso uno prima che l'ho buttato non so neanche se l'ho tenuto per i prodotti finiti non mi ricordo di quelle robe da market che costano zero euro virgola qualcosa pessimo ci mettevo un'ora a levare lo smalto con questo fate così finito questo era insomma tutto per i prodotti questi sono i miei 5 top low cost del mese continuerò ovviamente a cercare di testare nuovi prodotti per potervene parlare io spero di esservi stata di compagnia quantomeno avete segnato tutto ci vediamo al prossimo video cioè domani ciao